Sì, sì. Sono gran fatighe. Eh, bello signorca, anche me, vorrei lasciare la necessità baggare. Ma Luca, era lì che fosse io? Sì, cusci e la tina anche ne fa mangiare un pesto. Il pesto alla genovese. Un pesto azenese, la tina. Qui si mette l'aglio, poi si mette il basilico. Sì. Questa non è però la ricetta tradizionale, è una cosa moderna. Ecco, la tina è l'antica. E questa invece è perché le donne non ci hanno fatto niente. Sì. Allora io parlo anche da loro, non è che non hanno fatto niente. Sì. Poi c'è il formaggio. Sì. Ah, ci vorrebbe il sale adesso. Se non si m'ha scordato. Eh. E qui, qui, chi chiamolo? I pignoli. I pignoli. Sì, senza pignoli si può fare il pesto. Sì, se vuoi. Eh, e poi Miguel e me, non mi piace fare con me, eh. Ah, no. Allora, zippino lì. A tina si fai roba e fai in grande. Come il succo. Quattro spaghetti d'aglio. Sì. Magari, sì, perché senza aglio non sa di vincere. Sì. Ecco. Il pesto che si fai. Que si fa. Que si, che si, che si. Questo è il risultato finale. Ecco, questo è il risultato finale. Per vedere un bello verde. Un bello verde. Un bello verde. Vuoi diventare... Internazionale. Internazionale. Eccoli, basta. Grazie. 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 Grazie.